Nella giornata di giovedì la neve ritornerà su tutte le regioni settentrionali, quindi attenzione perché la neve interesserà, imbiancherà molte città del nord Italia. Cerchiamo di capire perché. Sarà presente questa massa d'aria gelida ancora incastrata sulla pianura padana, ovviamente l'aria fredda è più pesante e ristagna verso il suolo e sopra scorrerà una massa d'aria molto umida e mite direttamente dal Mediterraneo richiamata da una zona di bassa pressione tra Portogallo e Spagna. Ovviamente il contatto di queste due masse d'aria favorirà le nevicate inizialmente anche in pianura, non solo al nord ma la segnaliamo anche tra Liguria e Toscana. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Difatti mercoledì notte, attenzione, i fiocchi di neve cadranno sul medio alto Tirreno, abbiamo segnalato tra 0 e 200 metri di quota, quindi anche sui Fondovalle della Toscana e ovviamente anche le coste Liguri, per esempio in biancata Genova ma anche Savona e Imperia. Nevicate anche al nord ovest che poi nel corso della giornata di giovedì si estenderanno un po' tutta la pianura padana, quindi in arrivo anche sul Veneto e il Friuli Venezia Giulia e il Miglia Romagna. Guardate invece inizierà a salire la quota neve sul Lazio. Difatti durante il pomeriggio pioggia che interesserà gran parte della Toscana, Umbria, Marche e Lazio per il richiamo mite, invece nevicate su tutta la pianura padana e a bassissima quota ancora sulla Liguria per venti freddi di tramontana. Dettagli più precisi sull'app di Trevi Meteo.